Mi chiamo Filippo Deguio. La mia idea di miglioramento del prodotto è stata una modifica sull'asservimento delle viti. Il progetto l'ho trovato molto coinvolgente soprattutto perché grazie alla piattaforma opennovation.me ha messo diretto contatto gli utilizzatori finali con il fornitore. La piattaforma opennovation.me è stata molto semplice da utilizzare molto efficace il suo utilizzo tramite smartphone. Ciao sono Caria Marianna ho proposto un'azione di miglioramento che riguarda gli abitatori in uso nelle linee di montaggio. L'utilizzo della piattaforma per appunto esporre il suggerimento è stato molto intuitivo e molto semplice. Ciao a tutti mi chiamo Federico Salvatore ho avuto parecchie proposte per migliorare gli abitatori o comunque il lavoro di tutti gli operatori che utilizzano abitatori Fiam. Ne è stata premiata una in particolare ho proposto di avere un led che indichi lo stato di riempimento della vasca è stata accolta con parecchio entusiasmo abbiamo avuto modo di parlare insieme del suggerimento fatto è stata una bella iniziativa. Mi chiamo Tommaso Ferrari faccio il progettista dell'ufficio tecnico di Fiam operatori in linea che vanno a utilizzare l'abitatore 8 o più ore al giorno tutti i loro suggerimenti consigli che possono dare sia a livello di ergonomia ma anche a livello di funzionalità sono sicuramente un vantaggio per noi che possiamo portare a casa delle informazioni che altrimenti da puro designer non ti verrebbero. Ciao sono Carlo Moretto gli suggerimenti ricevuti tramite la piattaforma Open Innovation Me sono risultati particolarmente interessanti perché colgono direttamente le impressioni e i punti di vista dell'operatore che utilizza il nostro prodotto direttamente in linea e che li riporta direttamente a noi senza filtri.